Un caro saluto a tutti voi di Country Live, io sono in questo bellissimo e suggestivo luogo, avete già capito che ho di fianco a me, che è il magico Igor Pasin. Igor, ciao! Magico! Ogni volta un accettino di me. Allora, è molto bello perché in realtà fa vedere il goccettino. Questo è il goccettino che bevono i country boy. Sì, è irlandese questo. Quindi non c'entra nulla col country. Perfetto. È un whisky irlandese. Un whisky irlandese, però si può ogni tanto andare oltre a quello che è insomma il mondo country. E si degusta. Si degusta piacevolmente. Allora, davanti al camino, in questo luogo bellissimo, che è il Country Road qui al Parco Lonzina Torreglia di Padova, io vorrei affrontare con te un discorso molto particolare, una cosa che stai portando avanti direi con tantissimi oneri e onori. E sono davvero contenta che abbia avuto questa grande idea tu. E si parliamo di Country Music and Dance Association. Va brava. Non riesco a dirlo, vi giuro. No, no, è andata bene. CMDA sarebbe. Vai, mi dici cos'è Igor. CMDA, allora, è questa associazione che ha sede in Italia, è nata da circa un paio di settimane, dopo quattro anni di lavoro, ed è un progetto che si cerca di attuare, sto cercando di attuare insieme a tutti quanti i collaboratori che per strada abbiamo condiviso le stesse passioni, e la stessa idea di come vivere questa passione, e stiamo strutturando una specie di ente, lo chiamiamo pure così, perché a livello nazionale, riconosciuto dal CONI, lo facciamo attraverso l'ICS, che è la struttura dove io faccio parte, che mi ha dato la possibilità di portare avanti un progetto che riconosce gli insegnanti a livello proprio giuridico, e c'è questa idea di creare questa associazione che cercherà di portare un po' di chiarezza e di poter avere molto riscontro in tutti quelli che sono i vari settori del country che ci sono presenti in Italia. Allora, parlavamo, è un ente, diciamo, fra virgolette, tutela, quindi, tutela dei maestri. No. No. Allora, c'è anche il settore maestri. Ok. Quello è un settore che avevo fatto partire circa due anni e mezzo fa, con la scusa che questo settore sta comunque diventando sempre più grande, e lo facevo semplicemente con la mia associazione a livello di Country Lovers, che è la mia associazione, è diventato più difficile da gestire, anche perché ogni maestro ha la sua realtà, il suo modo di operare, il suo modo di portare avanti appunto quello che è il country. Da tenere conto che tutti i ragazzi che sono venuti da me per poter prendere il diploma, poter diventare maestri, un po' vivono il country come lo vivo io, a grandi linee. Cosa voglio dire con questo? Ci sono vari modi di vivere il country. Tutte queste situazioni, tutti questi modi si sono creati perché ognuno ha la sua mentalità, ognuno ha il suo modo di percepire la musica, ognuno ha il suo modo di portare in pista la sua passione. C'è chi lo fa muovendo tutto quanto il corpo, perciò quando va a ballare usa mani, braccia, ed è il suo modo di esprimersi. C'è chi invece, come il sottoscritto, è più contenuto, perciò una cosa più collegata alla parte inferiore delle gambe. C'è chi fa una via di mezzo, c'è chi si perfeziona per poter andare a fare le gare, chi invece vive la situazione proprio per la compagnia, per tutto ciò che può essere divertimento in questo mondo country, di questo pazzo mondo country. Perciò ognuno porta la sua individualità in quello che possono essere le varie piste da ballo, le scuole di ballo e via dicendo. Il brutto cos'è? Che ognuno, molti che lavorano in questi settori cercano di portare il loro modo di vivere il country al di sopra di quelli che sono gli altri modi, degli altri sistemi. Non tutti fortunatamente, ma in parte anche perché la loro conoscenza l'ha portato a vivere quella realtà e quella verità. Perciò diventa difficile quando hai fatto tu un determinato progetto, un determinato modo di vivere, andare a cambiarlo perché vedi qualcuno che lo vede diversamente diventa molto difficile. E questo succede perché c'è poca chiarezza principalmente. Molti non sanno da dove arriva effettivamente il country, le varie evoluzioni che ha avuto, perché ci sono tutti questi modi di vivere il country, perché ci sono certe persone che lo ballano in una maniera, certe che lo ballano in un'altra. E sono tutte quante atteggiamenti comunque che rispecchiano il carattere di ogni persona. Questa associazione, questo ente, l'abbiamo creato, io insieme ai vari collaboratori l'abbiamo creato per portare un po' di chiarezza. Non è che noi abbiamo la verità, lungi, ma cercare una collaborazione perché ognuno possa portare la sua esperienza e identificarla in un determinato contesto. Io sono più che d'accordo nel dire che tutti potremmo andare sotto lo stesso tetto e vivere d'amore, d'accordo. Però non la vedo molto fattibile. Non è possibile perché caratterialmente siamo fortunatamente tutti diversi. Esattamente. Come ascolto io la musica sicuramente non l'ascolto un'altra persona. Sì, io voglio andare ad una serata dove ascolto musica country, per come ne intendo io, mi trovo spiazzato quando mi trovo un altro tipo di musica che la chiamano sempre comunque country. C'è chi invece apprezza tutti questi tipi di musica. Perciò il country, quello anni 80, il bluegrass, il country più moderno, il country pop. Perciò ci sono tutte sfaccettature. C'è una buona parte che ha l'orecchio musicale che apprezza tutto, però c'è anche chi invece è legato anche sentimentalmente, come può essere un trascorso che ho avuto io, a un determinato periodo, a un determinato tipologia di musica, a un determinato tipo di cadenza. Perciò quello che non si riesce molto a capire sono i confini tra tutti questi stili e modi di percepire la musica, modo di viverlo e quella canzone lì molti che è country, questa non è country, diventa difficile. Anche un musicista in alcune situazioni ha delle difficoltà a catalogare quella canzone in un determinato mondo che può essere country, country moderno, country pop. Ultimamente sento il bro country che è un'altra tipologia di country che è venuta fuori. Ne sento tantissime. Perciò più la cosa diventa chiara, più si dà una sistemazione, un modo di vivere. Si schedano. Io vivo il country così perché mi piace così con questa musica qua, tu lo vivi così con quella musica ed è giusto che ci siano queste differenze. Quando sai che queste cose non hanno molto da condividere sotto l'aspetto musicale, se non la passione, o non hanno molte cose da condividere come espressione sul ballo, se non sempre la passione, ecco che diventa più facile convivere. E questa struttura adesso sta prendendo corpo un po' alla volta per poter far sì che persone, coreografi, maestri o comunque persone che lavorano da molto tempo in Italia e all'estero, che sono rappresentative per quel determinato stile, si riesca a trovare un filo comune capendo quali sono le differenze e dando a ognuno la sua collocazione. Quando riesci a fare una cosa del genere, ecco che nessuno vuole prevaricare rispetto agli altri, ma diventa più facile una convivialità, non sarà mai, però un po' alla volta lavorando si potrà anche avere quelle situazioni in cui alcune persone riusciranno a capire queste differenze e a vivere in un'altra maniera che non nella maniera negativa o quello che molte volte si respira adesso nelle sale da ballo. Nelle sale da ballo, allora un progetto davvero importante, impegnativo. Igor, complimenti perché ne hai avuto idea, ti auguro che vada tutto bene, bocca al lupo per tutto e grazie davvero di essere stato con noi e di averci spiegato questa grande cosa. Grazie, alla prossima, ciao.